Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi, ore 13.30 come sempre, per parlare insieme di Fantacalcio. Ieri abbiamo visto insieme i 10 underdog da prendere quest'anno nelle aste, oggi invece alziamo ancora di più l'asticella e proviamo un'impresa impossibile. Cerchiamo di individuare quello che potrebbe essere quest'anno il cigno nero. Chi è il cigno nero al Fantacalcio? Il cigno nero è quel giocatore che paghi 1-2 crediti, l'1%, l'2% e che poi ti va a overperformare non come un underdog ma come un semi-top alto o addirittura come un top. È un'impresa veramente ardua perché per definizione il cigno nero è quel qualcosa che non puoi prevedere, oggi però vi porto 5 potenziali cigni neri e proviamo l'impossibile. Prima di continuare però se non l'avete ancora fatto mi raccomando, like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è sempre gratis, grazie mille. Questi sono stati i primi giorni di aste, lo avete visto, ho fatto la mia prima asta random lunedì sera, ieri sera ho fatto la mia prima asta con gli abbonati qui sul canale, tante altre aste arriveranno, classic, mantra, random, tutte qui in live sul canale, agosto, settembre, insomma vedrete che vi divertirete. Questa sera tornano anche le analisi delle vostre aste, quindi ci rivediamo in live ogni sera alle ore 21, vi anticipo che ad agosto sarò in live qualche volta anche nel weekend, ok? E vi devo raccontare però questa cosa qui prima di vedere i potenziali cigni neri. Perché più o meno una settimana fa, ecco, mi ha scritto un ragazzo, Federico, dicendomi che gli avrebbe fatto piacere se analizzavo la sua asta che doveva fare in questi giorni sul canale in live. Abbiamo un po' parlato e poi parlando ho scoperto che Federico è uno dei creatori di un'app molto famosa, Fantacycling, la prima app dove è possibile fare il fantacalcio sul ciclismo. Ora, mi aveva anche così invitato a partecipare a una delle competizioni create la settimana scorsa in ottica Olimpiadi, come sapete sabato c'è stata la prova appunto su strada. Io ero un po' scettico perché personalmente io da piccolo seguivo tanto il ciclismo, sono cresciuto nel mito del pirata, ovviamente seguivo tutte le tappe di giro, tour quando c'era Marco Pantani. Poi negli anni successivi ho ancora un po' seguito più o meno fino al periodo dei fratelli Schleck e di Contador, negli ultimi anni invece ci avevo un po' mollato. Però parlando con lui appunto mi ha fatto vedere quest'app, insomma mi è piaciuta veramente l'idea e allora ho partecipato a una lega a pagamento e ho provato a concorrere diciamo nella competizione relativa alle Olimpiadi. E' andata malissimo come potete vedere dalla classifica qui vicino però questo mondo mi ha affascinato perché io ho sempre avuto l'ambizione in qualche modo su questo canale un giorno di unire anche tutti gli altri giochi Fanta, non solo Fanta Calcio, su un unico canale. Ecco e quindi questo crossover col ciclismo mi ha affascinato. E allora vi anticipo che Federico poi sarà mio ospite a meno di imprevisti venere di sera, quindi analizzeremo la sua lega e magari ci racconterà anche qualche curiosità in più sulla sua app, di come l'ha ideata, come gli sono venute alcune idee eccetera eccetera. Tra l'altro è un'app totalmente gratuita, poi per chi vuole ci sono anche altre funzionalità, c'è la possibilità anche appunto di creare eventi, leghe private, insomma premi, insomma ci sono veramente tante tante cose. Ma poi ve lo farò spiegare ancor meglio da Federico. Cosa interessante tra l'altro non ci sono i voti, quindi non c'è la possibilità di arrabbiarsi con qualcuno perché si è perso, è tutto gestito da un algoritmo, ci sono dei calcoli abbastanza meccanici. In descrizione trovate il link e poi ne riparleremo anche nei prossimi giorni. Io vi avevo fatto un piccolo spoiler l'altra sera in live, ecco ora sapete perché vi avevo parlato di ciclismo. Detto questo adesso ci spostiamo su Fantalab e iniziamo a scoprire insieme questi cinque potenziali cigni neri. Il primo potenziale cigno nero della stagione 2024-2025 è Castro del Bologna. È vero, in questo momento parte dietro probabilmente nelle gerarchie ma ha iniziato molto bene la stagione. Dall'Inga arriva per fare il titolare ma sappiamo benissimo che con Italiano ci sarà tanto turnover, soprattutto quando ci saranno le partite di Coppa. L'anno scorso solamente cinque partite a voto, di cui due da titolare, un gol e un assist. Il giocatore è giovanissimo, solamente 19 anni, quindi ha un grande potenziale di crescita. È uno che vive per segnare, è uno che vive per gli ultimi 10-15 metri lì nell'area di rigore. Si prende a poco, 1%, 2%. Il consiglio è quello di prenderlo sia in coppia con Dall'Inga ma anche da solo. Ci potremmo ritrovare per la seconda stagione consecutiva un cigno nero in casa Bologna. Che il dopo Zirkzee non sia Dall'Inga ma Castro, attenzione a questo nome. Il secondo nome è quello di Marcinski, quindi andiamo sul centrocampo, andiamo nel Lecce, andiamo a scoprire insieme quella che potrebbe essere l'ennesima rivelazione scovata da Pantaleo Corvino. L'altro giorno, autore di una doppietta, se ne parla tuttora abbastanza poco, manca pure la caricatura, quindi è proprio bello nascosto come nome. L'anno scorso, nel campionato polacco, 8 gol e 5 assist. È un centrocampista offensivo che nel Lecce di Gotti dovrebbe occupare il ruolo di trequartista centrale dietro Kirstowicz. È un nome che però all'occorrenza sa anche aiutare il centrocampo, quindi potrebbe avere buone chance di guadagnarsi un posto con continuità nello scacchiere tattico pugliese. È un nome da prendere come scommessa. Un per cento, in qualche lega magari anche un paio di crediti, in qualche lega un po' più attenta a questi nomi rivelazioni anche il 2%, però al di là di questo può essere veramente un nome dall'alto potenziale. Se vi piace quel tipo di giocatore, se credete che il trequartista del Lecce quest'anno possa fare molto molto bene, è giusto puntare su di lui. Il terzo nome di oggi è quello di Bonny, del Parma. L'anno scorso in Serie B, 5 golle, 7 assist, 35 partite a voto, di cui 28 da titolare. Giocatore molto giovane, francese, 20 anni, pecca ancora un po' di concretezza in area di rigore, ma a livello di potenziale, qui ragazzi, non possiamo assolutamente lamentarci. Nelle prime amichevoli ha alternato cose positive a cose negative. Ha fatto molto bene, ad esempio, nella partita contro l'Atalanta, dove ha trovato anche la via del gol. Bonny l'anno scorso non ha fatto una doppia cifra, quindi in questo momento è molto più nascosto di tanti altri nomi che arrivano dalla Serie B, come ad esempio i suoi compagni di squadra, Dennis Mandi, è stato a centrocampo e Adrian Bernabé, è molto più nascosto, ad esempio, di un po' Iampalo al Venezia, è molto più nascosto anche, ad esempio, di uno strefezza. È un nome che in alcune legge verrà assolutamente sottovalutato, lo prenderete veramente a pochissimo, un per cento, due per cento, in alcuni casi addirittura anche a pochi crediti. Nelle legge un po' più attente a questo tipo di giocatori, che segue magari un po' più i social, si potrebbe anche pagare il 3, 4, esagerando 5%, ad oggi però vi portate a casa la punta titolare del Parma. Tra le altre cose, il fatto di avere Dennis Mann, l'istatua a centrocampo, se da un lato rende più complesso l'acquisto di Adrian Bernabé, rende più semplice l'acquisto di Bonni, anche perché, come sapete, Benec, l'istatua in attacco, ora ci interessa un po' meno. Dovrebbe essere lui, appunto, l'attaccante di riferimento della squadra di Pecchia, personalmente è un giocatore che a me piace molto, rapporto qualità-prezzo si candida ad essere uno degli attaccanti più interessanti in ottica potenziale, e dato che stiamo parlando di potenziali cini neri, è quello che dobbiamo andare a vedere, attenzione a questo nome. Per il quarto nome mi devo spostare su Transfer at Market, perché deve ancora perfino arrivare anche su Fantalab. È Kellencamp, il nuovo acquisto dell'Udinese. In questo momento sto facendo il video e sta facendo le visite mediche, quindi ormai dovrebbe essere ufficiale, è un nome che non conosce nessuno, in questo momento non se ne parla ancora. L'anno scorso nel campionato belga, 29 partite e 5 gol. L'anno prima, stagione 22-23, 5 gol e 7 assist. L'anno ancora prima, nella stagione 21-22, ha giocato in Bundesliga, 21 presenze, 3 gol. L'anno ancora prima, ha giocato nel campionato olandese, 15 presenze, 3 gol e 2 assist. Se si va a analizzare il ruolo in cui ha giocato più spesso, è quello di trequartista, ma sa giocare all'occorrenza anche da centrocampista centrale. Infatti in carriera, 113 partite da trequartista, con 34 gol e 16 assist, 108 partite da centrocampista centrale, 40 gol e 8 assist. Perché allora vi parlo di questo nome, in quest'ottica? Perché come sapete, Samarczyk è in uscita nell'Udinese. Ora, io credo che l'Udinese dovrebbe giocare comunque con due giocatori dietro la punta, di cui uno più attaccante, ad esempio Toven, poi Lucca, l'altro è un più un centrocampista. Se vi ricordate, quando ho fatto un'analisi dell'Udinese, quando abbiamo visto tutti i giocatori chiave, ho detto attenzione all'ipotetico centrocampista che potrebbe giocare in quel ruolo da trequartista. Ora, quando io ho registrato quel video, nella mia testa ovviamente pensavo a Lovric, ma Lovric credo che abbia più possibilità di giocare in mediana, magari vicino a un paiero, ok? Ecco, questo nuovo acquisto potrebbe invece avere più propensione offensiva perfino di Lovric, e giocare a volte sì in mediana, ma perché no, magari qualche volta anche sulla trequarti. E quindi, sotto questo aspetto, pagato pochissimo, perché è un nome che si pagherà veramente pochissimi crediti, potrebbe candidarsi ad essere una delle rivelazioni in ottica fantacalcio. Per il quinto nome, ragazzi, va fatto un discorso un po' particolare. Allora, io in questo momento vi parlo di Elbilal Touré, ma non è detto che il quinto potenziale cigno nero sia Elbilal Touré. Seguitemi. Di Scamacca, lo sappiamo tutti, crociato, menisco, insomma, veramente un peccato, giocatore che purtroppo ha compromesso la sua stagione e speriamo invece non la sua carriera. In questo momento, nonostante l'infortunio di Scamacca, sembra che Elbilal Touré possa restare comunque sul mercato, perché da Gasperini non hai visto propriamente come la prima punta. Sappiamo anche però che spesso nel ruolo di prima punta Gasperini ha impiegato giocatori che non erano delle vere prime punte. Pensiamo a Pasalic, pensiamo a De Ketelar. Quindi, il discorso qui è questo. Bisogna vedere che cosa succede nei prossimi giorni. Io sto registrando questo video lunedì, in questo momento non si fanno nomi di nuovi attaccanti in ottica Atalanta. Qualora la situazione dovesse restare questa, quindi non arriva nessun altro all'Atalanta e Touré resta all'Atalanta, allora per me il potenziale cigno nero di quest'anno nell'Atalanta è il Bilal Touré, in attacco, ok? Perché De Ketelar si paga, Lukman si paga, a centrocampo ne abbiamo già parlato dei vari underdog, e il Bilal Touré è l'unico che potrebbe avere quel rendimento, quel range potenziale di bonus molto più alto di quello che uno si aspetta. Ricordiamoci che comunque l'Atalanta su di lui ha fatto un investimento importante. L'anno scorso ha giocato poco, causa infortunio, quest'anno potrebbe rilanciarsi. Se però l'Atalanta dovesse addirittura decidere di vendere il Bilal Touré e di andare a prendere un nuovo attaccante, lì allora tutto dipenderà da chi arriva all'Atalanta, perché se arriva un nome con un hype già importante, non si potrà più parlare di cigno nero, ma magari di underdog o addirittura già di top. Se invece dovesse arrivare un nome sotto traccia, un nome scommessa, allora lì attenzione, cerchiamolo di analizzare bene, perché sappiamo benissimo che ogni anno in casa Atalanta qualcosa di particolare al fantacalcio succede. Potrebbe succedere in attacco, potrebbe succedere a centro campo, in difesa la vedo già un po' più difficile, ma quello che è certo è che l'Atalanta e soprattutto Gasperini ogni anno un regalo inaspettato al fantacalcio. Ce lo fanno sempre. Ragazzi, questi erano i cinque potenziali cigni neri ad oggi a inizio agosto. Attenzione, questi erano cinque, ma alcuni cigni neri si potevano anche nascondere nel video di ieri, quello degli underdog, ok? E' ovvio che se parto dall'asticella underdog per diventare cigno nero devi fare ancora di più rispetto ai nomi visti oggi. Perché? Perché non sono giocatori che io pago l'1, 2, 3%, ma soprattutto in attacco sono giocatori che io pago già al 4, 5, 6%, ma attenzione perché soprattutto nel video di ieri potrebbe nascondersi anche un altro cigno nero, ok? Ne abbiamo già parlato, però attenzione. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere anche la vostra. Secondo voi chi sarà il vostro cigno nero quest'anno al fantacalcio? Chi sarà il giocatore che spezzerà gli equilibri contro ogni pronostico? Chissà che magari questo video visto tra un anno rileggendo la sezione commenti qualcuno di voi ci ha azzeccato e ha veramente scomato il cigno nero. Fatemi sapere la vostra qui sotto, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando like, mi raccomando iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao! Outro musica Outro musica Outro musica F*** me, I'm looking in the mirror So foggy but I've never seen clearer I don't really think